buongiorno parlate italiano ha un poco un poco e io chiamo qui dalla fiume ma io vivo alla vicenza voi avete il appartamento per il compleanno nuovo anno si prego voi manda un fax vostro nome manda voi siete signora manda io no no come come si chiami io sono ivana ivana e dove è il appartamento alla novi vinodolski a novi vinodolski dove si dove è tuo appartamento io ho appartamento in novi vinodolski e in in cinque unità ah tu hai molti appartamenti si si voi siete noi siamo noi siamo noi siamo uno noi siamo amici cinque amici pedericci quanto persone cinque amici ci quanto quanto amici cinque amici 1500 amici si cinque amici pedericci ci sì sì e no problema noi Siamo amici e pederici, no? No, no. Si, si, ok, ok. No, no. Sì? Sì, stai dicendo, signor. Siamo già tre minuti parlare in italiano. Sì. Siamo in italiano. Sì, perché mi è detto questo mio. Sì. Siamo in italiano. Sì, io ho pensato che questo mio italiano è un poverso, un poverso, un poverso italiano italiano. Sì. Sì. Sì, a voi parlate in cui era un poverso? Io. Sì. Sì, però al suo rumunico, come. A Rumunico? Ok, ok. E io sono un rumunico, a New Vinodosco e i vi bih trebali smestiti solo non volete chiami policia aha, ok oni papers in rumunzi ucimcimcim zlotima aha, ok e ma possiamo più parlerati alle italiane è meglio comunicare alle italiane signora signora Posso io vedere l'apartamento? Non parlo croato, io sono Giovanni dalla Vicenza, mio padre è il pescatore e mia madre lavora in una caffetteria. Dobro. E io voglio una camera per mi, mi, cinque amici pederici. Aha, cinque amici pederici, dobro. Si. Vas to smeta? Ne, ne, meni to ne smeta. Zač? A, jel' mi ne smeta? I svako ima pravo biti ono šta hoće, jel'? Tako je, gospodin' ovo. E? I svako može biti HDZ-ovac. Tako je, može i to. Evo, recimo, moj dobar prijatelj je HDZ-ovac, Oleg Butković. Ja? Je. Ok. Ok, how are you? Ja. You are good? Recite, recite, recite šta hoćete. Recite, ajde. You are good? Good, ja. Yes? Ja. You have apartment in Novi, Vinodovski? Yes. How many people I can take with me? Kako? How many people I can take with me? How many? One, two, three, four, five, six, seven, I don't know. It's lots of people. I have one bus. Imate vi malo previše kuna na mobitelo, ili? Yes, my dear. I am, I am the sheik of Arabia. A, dobro, dobro, ok. Dobro, gospođo, ništa, onda dolaze ti Rumunji i ti Taljani, a mići pederici i bit će veselo i živo za novu godinu. Super, nema problema. E, gospođo, i svako dobro vam želim i jako volim doći u Novi, Vinodovski, kad je Ružica, Vinodola, uvijek se zabavim i tako. Super, ja, nema problema. More, bogi se, ala. Ala, bog. Bog.